Ciao a tutti! Siamo qui da Firenze, abbiamo appena finito un incontro straordinario per presentarti la seconda delle tre giornate della Jesus Conference, una conferenza completamente nuova che inizierà dal sud Italia, dalla Sicilia, dalla bellissima Sicilia, dal 21, venerdì 21 a domenica 23 agosto 2020. La seconda giornata sarà l'unica giornata, giornata piena, dalla sezione della mattina al dopo cena. Affronteremo alcuni temi centrali. Nella prima giornata ci siamo dedicati, ci saremo dedicati principalmente a conoscere la persona di Gesù, il volto di Gesù e l'opera della croce. Nella seconda giornata ci dedicheremo a conoscere il ministero di Gesù, perché se noi conosciamo il ministero di Gesù possiamo conoscere il ministero della Chiesa. In un'altra sessione sarà una sessione di guarigioni incredibili, anche interiori. Gesù, la grazia di Dio per gli ultimi. Come spesso la religione ha fatto vedere Gesù un premio per i meritevoli, quando invece il Padre l'ha mandato come la salvezza e la grazia per quelli che non lo meritano, per gli ultimi. Sarà un tempo di amore accettevole di guarigioni interiori meravigliosi. Avremo una sessione di ministrazione, di guarigione, di liberazione, ministrazione profetica e una sessione dove vedremo come spesso il nemico si traveste dal leone di Giuda per ingannare attraverso la religiosità i credenti, in modo da attribuire a Dio ciò che invece opera sua. Sarà un tempo di liberazione da fortezze che ci permetterà di vedere Gesù come il Dio che è sola luce e in cui non ci sono tenebre né ombra di mutamento. Gesù è l'amore e la grazia di Dio per ogni uomo. La sera del dopocena avremo un incontro straordinario che abbiamo anche in altre conferenze e sarà la serata di gloria dove vivremo un tempo nell'unzione, nella manifestazione dello Spirito Santo per chiedere, per permettere allo Spirito Santo di portare risveglio, unzione e fuoco nella sua chiesa. Questa sarà la seconda giornata, sabato 22 agosto. La conferenza, come tutte le nostre conferenze, è completamente gratuita. Le uniche spese sono quelle del vito e dell'allogio, ma per chi è pendolare può andare e venire quando vuole. Le nostre conferenze sono a ingresso completamente gratuito. Non aspettare a iscriverti, dedica una parte delle tue vacanze a questa conferenza per conoscere solo lui. Sul nostro sito www.valterbiancalana.it potrai trovare le info e la scheda per iscriverti. A oggi manca ancora quasi un mese e abbiamo già quasi 170 solo residenti. I posti non saranno infiniti, già stiamo attingendo ad un secondo albergo lì vicino. Non perdere tempo, manda la tua iscrizione. Ci vediamo in Sicilia, Piazza Armerina dal 21 al 23 agosto. Jesus Conference, una conferenza solo su lui. Ciao, a presto.